Ho anticipato molto, molto sinteticamente il curriculum vitae suo, ma tutti noi la conosciamo. Partiamo proprio dal titolo del libro e del film, quando ho studiato un po' di grammatica. Quando ha due funzioni, è un avverbio, quando accadrà che, ma anche una congiunzione, quando piove ci vuole l'ombrello. Chiedo scusa per la banalità. Ecco, nel titolo del libro e del film, quale di queste due funzioni prevale? Quale sapore ha questo film che vedremo tra poco? Congiunzione o avverbio? Non lo so. È un modo per parlare del tempo, quando è il modo che tutti noi abbiamo per parlare del tempo. Quando sarà, lo si usa sia in termini di speranza, sia in termini di rimpianto, sia in termini di impegno. A me ha sempre affascinato il tempo come dimensione narrativa. A quello ho dedicato il mio primo romanzo, che poi è diventato un film girato da Susanna Nicchiarelli, che si chiamava La scoperta dell'alba, che era la storia di una persona adulta che nella casa di campagna trovava un vecchio telefono di bachelita nera facendo quasi per scherzo il numero di casa sua da bambino, dall'altra parte sentiva rispondere se stesso bambino e con lui capiva le ragioni per le quali il padre era andato via. L'altro film che io ho girato di finzione si chiama C'è tempo e in un altro libro si chiama Ciao, che insomma è un modo per ritrovare il padre che non ho mai conosciuto. Ho immaginato di trovarlo seduto sui gradini del palazzo di casa mia, di farlo entrare a casa, di parlare con lui. Mi piace molto questa dimensione del tempo e qui il tempo è come la pausa in una registrazione, cioè ci si ferma e poi si riprende da un punto che però non è quello che avevamo previsto. In fondo Giovanni, poi gli spettatori lo vedranno, io non voglio sciupare o anticipare niente, Giovanni, e questa è stata la fantastica bravura di Neri Marco Re, abbiamo lavorato tanto sia in sceneggiatura e poi anche con lui, Giovanni è un ragazzo di 18 anni, però nel corpo di un cinquantenne e in un tempo della storia che arriva quando lui è completamente solo, nel senso che rinasce a 18 anni ma con un corpo da 50, rinasce in un mondo che non conosce, rinasce non sapendo nulla di sua madre, di suo padre, della sua ragazza, di quello che è successo nella storia, quindi deve cercare di ricuscire una vita tra due secoli, due millenni e una pausa e questo per me narrativamente era molto affascinante. Ecco, proprio questo letargo forzato che vive Giovanni toglie molto alla sua vita, ma può essere invece una risorsa nella sua seconda vita? Ma non lo so, io penso che ci siano due tipi di persone delle quali bisogna diffidare, quelli che non hanno mai conosciuto dolore nella loro vita e che non hanno quindi avuto ragione per esplorare, cercare, immaginare e quelli che si scordano di essere stati bambini e fanno finta di non esserlo mistati. Queste due categorie di persone a me lasciano sempre un po' così perplesso. Qui Giovanni è un ragazzino, è un ragazzo di 18 anni, un ragazzo che aveva un'aspettativa di vita come può avere un diciottenne e improvvisamente si trova a 50 anni, avendo perso tutto il meglio della vita, che sono esattamente quegli anni, e dovendo rinascere, come un bambino che comincia a muovere i primi passi, abbiamo cercato di dare a questa rinascita proprio questa leggerezza, questo tono lieve. Gli spettatori che hanno visto il film, e mi ha fatto molto piacere, si sono commossi e si sono divertiti, che in fondo era esattamente quello che ci proponevamo quando abbiamo fatto questo film. Il film che più è piaciuto era il neorealismo e poi la grande commedia italiana, che avevano sempre queste due caratteristiche, pensate al sorpasso, pensate alla grande guerra, come nella vita, si piange e si ride. Spero che il film produca anche negli spettatori di Senigallia le emozioni che ha prodotto negli altri. Potremmo essere anche noi, tanti Giovanni o Giovanni, che pur non avendo vissuto, fortunatamente, speriamo di non vivere, un trauma così estremo, di mettere in pausa la vita per oltre 30 anni, e pur non avendo visto questo, però facciamo fatica a riconoscerci nel tempo che viviamo e quasi ci risvegliamo non sapendo in che mondo è, tanto va tutto veloce. E allora a cosa aggrapparci? Mi viene da raffasare Renato Zero quando dice nella sua canzone Amico, quello che non passa mentre tutto va. Ecco, cos'è che proprio potremmo considerare come qualcosa che risvegliandoci pur rimanendo vivi può darci speranza? Ma guardi, questa storia per me è servita anche a suggerire allo spettatore di assumere lo sguardo di Giovanni, cioè di un ragazzo di 18 anni che come il marziano a Roma di Flaiano arriva in un contesto che non conosce e lo guarda con la nitidezza, con la semplicità e anche con l'assenza di pregiudizi che può avere chi si trova in questa condizione. Noi non l'abbiamo perché noi tutto quello che è successo in questi trent'anni l'abbiamo vissuto, voluto, subito. Giovanni no, Giovanni lo vede e cerca di razionalizzare e mi piacerebbe che lo spettatore facesse qualcosa di simile. Le aggiungo una cosa, nel film non c'è nostalgia, la nostalgia è un sentimento che va bene per il cuore, va bene quando si pensa a se stessi da ragazzi, va bene per il tempo vissuto, ma non va bene nei giudizi storici. Io non ho nessuna nostalgia degli anni Ottanta, non ho nostalgia del terrorismo, non ho nostalgia della P2, della mafia, di Gladio, delle stragi, non ho nostalgia di tutto questo. C'è una sola cosa di cui è nostalgia e gli spettatori a un certo punto del film percepiranno questo sentimento della passione civile, dell'intensità, della, come posso dire, dell'energia, della luminosità che c'era nelle comunità che si ritrovavano attorno a degli ideali, non a delle ideologie, ma a degli ideali. E attorno a quegli ideali costruivano una solidarietà, un sentirsi dalla stessa parte. E sono queste comunità che hanno enormemente cambiato il mondo, perché il mondo è cambiato tanto ed è cambiato per molti versi in meglio. E adesso c'è da cambiarlo ancora, come era ai tempi dell'antica Roma, quando c'erano gli schiavi. Da allora non si è mai smesso di cercare di liberare dalle catene e bisogna continuare a farlo. Questo film, che pure racconta, anche se in forma talvolta di commedia, racconta evidentemente un dramma, però gli spettatori che l'hanno visto mi hanno detto che sono usciti con un senso di serenità, di speranza, direi quasi di sogno. E questo è quanto mi auguro succeda anche a voi che avete riempito questa sala e vi ringrazio tanto. E tutto parte, lo possiamo anticipare anche perché l'abstract della trama ha circolato. Tutto parte da un momento storico estremamente significativo per il nostro paese, i funerali di Enrico Berlinguer. Tra l'altro noi abbiamo avuto occasione di ospitare il suo documentario bellissimo. Da lì Giovanni si prende una botta in testa, un'asta di uno striscione, crea questa situazione di sospensione dalla vita. Ecco, non so se è una forzatura, ma esistono delle militanze che possono fare male. Se sì, quanto può avere pesato nella storia e nel presente una certa militanza della sinistra italiana che poteva aver sforato anche dei confini dell'ideologia piuttosto che dell'idealismo? Ma non lo so, sinceramente non lo so. Io so che quando ci fu quel funerale la sensazione che tutti avemmo quella sera è che si girasse pagine, insomma. Che si dovesse cercare di dar vita a qualcosa di nuovo perché quella geniale capacità che il coraggio politico e civile di Enrico Berlinguer aveva assicurato ad un partito comunista che lui ha trovato tre anni prima del 1940, lei al 25% lo aveva portato al 35% allargando, innovando, modernizzando, deideologizzando. Se lei pensa che Berlinguer andò sul palco del Cremlino a dire che la democrazia era un valore universale o che disse che si stava meglio sotto l'ombrello ed era nato, che sotto quello del parto di Varzavia ci si rende conto del coraggio che quell'uomo ha avuto nel mondo separato in blocchi perché poi le cose vanno messe sempre nel loro tempo storico. Però ecco, diciamo, l'unica cosa di cui bisogna avere nostalgia è veramente quella passione civile e sperare che rinasca, che rinasca ovunque perché fa bene la democrazia quando c'è passione civile. Poi gli spettatori vedranno, poi adesso gli facciamo vedere il film e basta con le chiacchiere. Sì. Gli spettatori, penso, percepiranno il fatto che è un film in cui nessuno ha torto e nessuno ha ragione. Dei protagonisti che si trovano coinvolti in questa storia che è a metà tra la fiaba e qualcosa di diverso nessuno ha pienamente torto e nessuno ha pienamente ragione. Anche questo com'è nella vita. Solo a riconoscere questo vivremo tutti più sereni, più tranquilli e con un po' più di rispetto per gli altri. E intanto tante persone sono uscite di casa e hanno riempito la nostra sala e anche questa è passione civile e partecipazione bella, leggera, democratica alla vita della nostra città. Quindi grazie a Valter Vertroni. Grazie a voi, spero vi piaccia. Grazie. L'applauso dal Cinema Gabbiano di Senigallia, buon proseguimento di giornata e a voi buona visione. Quando? Valter Vertroni. Buonasera. 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 Buonasera.